Sarà Cristina Cattaneo, medico legale dell'Abanov, il laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano, a effettuare l'autopsia sul corpo di Ernesto Albanese, il 33enne di Bulgorello trovato morto, sepolto nel giardino di una casa in ristrutturazione a Guanzate. L'incarico è stato assegnato dal pubblico ministero Massimo Astori. Dall'esame del corpo la procura di Como mira a ottenere ulteriori informazioni. Si cercano ovviamente conferme sulle cause della morte, che dovrebbe essere il dissanguamento successivo alle coltellate, ma anche sul periodo a cui questa risalirebbe, ovvero la compatibilità con la notte tra l'8 e il 9 giugno, e sul numero esatto dei colpi inferti dagli aggressori, sulla traiettoria e la localizzazione delle ferite. Sarebbe poi importante capire se una ferita possa essere stata più grave delle altre, tale da causare da sola il decesso. Le risposte dell'Avanov alle domande della procura di Como dovrebbero arrivare poco prima di Natale. Secondo la versione fin qui fornita dall'accusa, in quattro sequestrarono albanese, reo di non aver saldato un debito di droga e di parlare troppo, per poi finirlo a coltellate in un bosco di Guanzate. In cinque sono stati colpiti, a inizio settimana, dall'ordinanza di custodia cautelare per il delitto. Una persona, invece, è accusata solamente del seppellimento. Grazie.